Alla cazzo di cane Oh che mi ha fregato Ok Abbattuta Vittoria Secondo round Oh ma questa spam Bravo Però dai la nobush è spamma non me l'hai detto però questo A me non mi ha fatto giocare Nooo no Eh qua sbi- figlio mio Spamma poco Perché una pedata Oh ma no 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 hai sbagliato, hai fai da un pi guardia eh però No, ti ha fregato Quando è in difesa totale Ti contraattacca con un colpo Eh, è l'effetto della Valkyrie Tipo fa anche la scudata Sì, però da Ranobushi questa qua Spam, ma fa fare sempre Osh te maido, osh te maido Ognata di scio No, non funziona Ma porca Ma no, è troppo veloce Fammi fare l'esecuzione Fammi fare l'esecuzione Farla finire, farla finire Ok Vabbè, ha capito Sì, vabbè, ma che palle Che palle Sembra, nooo Ma io strappavo la faccia Quinto round Ma cazzo che tu puoi usci Durante Ora la tua voce Ma dai, non, 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 non Ma cazzo che tu puoi usci Oh, cazzo Oh, cazzo, sì, cazzo, sì Bene Scusa se respiro ma devo avantiare la calma. No salvala clip, salvala! Molto probabile, ma di che notorietà è il tizio per in generale? Aspetta minchia, io sto più tipopulizzando, va bene? Ok, bravo! Oh! Questo è stato tempismo, ammettilo, questo è stato tempismo il perdere del T&D. Ma hai visto quello che ho fatto? Il mio gli chiede un po' di tempismo. Oh! Oh! Un po' di tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però mi è piaciuto lo sconto contro Sugori perché è stata pura emozione. Grazie a tutti. No. Va sempre di leggeri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo round. Ho perso alla village. Ho fatto il pedi. No. No. L'avevo colpito. L'avevo colpito. Ce l'avevo colpito. Abbattuto. Abbattuto. L'avevo colpito. Lascialo a me. Eh. No. 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 Anche. ucciso dai lo scrivo niente male lo scioglie però è molto bravo grazie a tutti